Da inizio anno sono già tre suicidi registrati all'interno del carcere Terramano di Castrogno. L'ultimo detenuto a compiere il gesto è stato il 74enne Giuseppe Santoleri accusato dell'omicidio della pittrice Renata Rapposelli. Con l'ennesimo suicidio e la luce di un'emergenza diffusa in tutto il paese si riaccende la polemica sulle numerose problematiche all'interno della struttura. Per il sindacato Sappe ogni suicidio, una sconfitta e episodi simili portano con sé il fallimento del sistema penitenziario. Nonostante i tentativi prima del personale di polizia penitenziare e poi dell'area sanitaria purtroppo non si è riuscita a salvare la vita a questo detenuto. Detenuto che, è bene ricordarlo, non ha mai dato problemi sotto l'aspetto gestionale e negli ultimi tempi purtroppo le sue situazioni di salute si erano aggravate tant'è che l'Avvocato ne aveva chiesto la scarcerazione presso una struttura esterna. C'è da dire che in Italia questo è il 44esimo suicidio dall'inizio dell'anno. Sopraffollamento dei detenuti, mancanza di personale, la mancanza di sicurezza al suo interno sono alcune delle criticità diventate ramaicroniche. Negli anni sono stati diversi gli appelli rivolti alla politica affinché si trovino soluzioni per una condizione di criticità definita dai lavoratori in continuo peggioramento. Purtroppo la polizia penitenziaria, con la gravissima carenza di personale, non può sorvegliare tutti i detenuti ristretti all'interno del quadri di galere. Quindi servirebbe un provvedimento di defrazione da parte dei detenuti, almeno quelli che hanno delle pene brevi, affinché il carcere si alleggerisca di tanti detenuti. Purtroppo questa è una decisione da parte del governo che deve prendere con urgenza, perché la situazione si fa sempre più grave, giorno per giorno non vengono detenuti e giorno per giorno c'è una carenza di personale, personale carente dovuta soprattutto al mancato turnover di questi anni. I vari governi, sia di destra che di sinistra, non hanno mai posto in atto o in essere quei provvedimenti di arruolamento di personale e quindi ci troviamo in gravissima difficoltà.